La canoa per me è molto importante perché è uno strumento di lavoro, uno strumento di viaggio, quindi in questo caso è anche uno strumento di esplorazione. Tutti i popoli che hanno avuto contatti con l'acqua hanno usato e usano dei mezzi per navigarla, per ricorrerla. Quindi è una storia lunghissima, vecchissima. Mi interessa in questo caso specifico, mi interessa prendere questo oggetto straordinario e trasportarlo nel mondo dell'arte. Quindi lei ha finito di viaggiare sull'acqua e in questo momento non è più uno strumento utilizzato dalla sua necessità, dalle sue origini, ma diventa utilizzato per fare un altro viaggio, cioè il viaggio nel mondo dell'arte. Lei pone dei dubbi, pone delle questioni, pone delle domande e la risposta che posso dare io come spettatore privilegiato è una, non la capirò fino in fondo, non si può mai capire un'opera fino in fondo. Grazie a tutti.